e si sfila. Questa parte è la parte opposta, ok? Queste due parti, ora dovrei riuscire miracolosamente a rimettere la vitina dentro, questa è ora una rogna non da poco, cerchiamo di farlo in modo da riunire queste due parti anche se smontate, dopodiché vi faccio vedere anche la particolarità di queste due parti, ora devo cercare di beccare nuovamente, ok sono stato fortunato, ho beccato il foro, di questi tempi beccare un foro e un terno all'otto, ok, avvito poco, giusto per lasciarli collegati ma non è necessario assolutamente stringere proprio per evitare di andare a inficiare quelle che sono le filettature nella plastica, ok? Allora vi volevo far vedere una particolarità di questi due componenti, hanno una tacca, sono tutti quanti circolari meno che in un punto dove c'è una tacca, sia il pezzo di destra sia il pezzo di sinistra in diametro diverso hanno una tacca e questa tacca corrisponde a questa parte, vedete? Qua c'è una tacca e quindi questo ci fa capire come le due parti che a loro volta compongono il tamburo devono andare a collimare perfettamente tacca con tacca. Il tamburo si apre in maniera molto semplice e si estrae in questo modo, quindi quando lo andremo a richiudere dovremo verificare che questa tacca sia in corrispondenza con quest'altra, ok? Ora qui abbiamo il tamburo con i dardi che lo lasciano libero, nel momento in cui li tolgo io per comodità me li vado a rimettere qua e da quest'altra parte c'è l'altra metà del tamburo che è quella che va a contatto con la transfer port. La transfer port altro non è che il punto dal quale avviene il passaggio dell'aria per così dire compressa in direzione di quello che è il dardo che viene sparato. La transfer port trova in opposizione questo listellino vedete che poi fa da supporto a questi riferimenti per i dardi perché i dardi poi vengono infilati qua e in questo momento non vi consiglio di andare a rimuovere questi di queste staffette. Perché? Perché dobbiamo prima verificare correttamente le misure e se realmente la rimozione offre un vantaggio. Molti video americani fanno vedere che questa è la prima cosa che vanno a togliere, a rompere. Siccome il rompere non è una cosa che io voglio fare ma voglio semplicemente ottimizzare il nerf, probabilmente questo per il momento lo lasceremo così com'è. Poi se faremo una determinata modifica sul munizionamento saremo costretti a eliminare questi paletti, questi sei paletti che spuntano dal tamburo. Però vedremo di evitare di eliminare questa staffetta proprio perché nel momento in cui si inseriscono i colpi nel tamburo è utile per bloccare il colpo, per evitare che i dardi possano andare oltre il tamburo, possano fuoriuscire e impedire la corretta rotazione ad ogni colpo sparato del tamburo. Potremmo fare molto danno andando a rimuovere queste queste staffette. Quindi per il momento lasciamole così, non andiamo a toccare nulla. Dopodiché questo pure lo mettiamo di lato e andiamo a vedere com'è il gruppo di compressione dell'aria perché alla fine un nerf, questo nerf nello specifico è una vera e propria pistoletta d'aria compressa. Allora per estrarlo questo è tutto quanto un blocco, vedete? Qui ci sono dei fori guida, nello chassi, nelle scocche della pistola che corrispondono a queste, vedete? Questi punti vanno a corrispondere qua. Quindi in fase di montaggio sarà facilissimo andarlo a riporre, semplicemente deve coincidere e non si muove più. Ora vi voglio far notare un paio di cosine interessanti. Andiamo nuovamente a sfilare il tutto. Come funziona questo questo gruppo? Allora questo è il cilindro dentro al quale c'è il pistone con la molla, vedete la molla? Una particolarità di tutto questo corpo è il fatto che sia basculante, cioè nel momento in cui avviene lo sparo tutto il cilindro tende ad andare in direzione sinistra. Questo perché? Perché andando in direzione sinistra, quindi in avanti, si avvicina a quello che è il tamburo che gli sta di fronte e si schiaccia contro il tamburo. Questo schiacciamento fa sì che la distanza che normalmente è di qualche millimetro si annulla e in fase di sparo, in fase di emissione dell'aria praticamente si trova attaccato. Questo attaccamento fa sì che ci sia una minor perdita di pressione dell'aria prodotta dal cilindro e dal pistone e che sia tutta veicolata all'interno del canale dentro il quale si trova il nostro dardo. Questa andata sinistra, per così dire, corre lungo questo binario e il ritorno è assicurato da questa piccola mollettina, non troppo potente, ma così deve essere, che poi ne consente il ritorno nella posizione di riposo. È un sistema molto interessante, un sistema che permette al tamburo di girare senza troppi problemi, in maniera assolutamente libera e la rotazione del tamburo è gestita da questo sistema. Vedete? Ogni qualvolta si arma la pistola avviene una rotazione per via di queste scanalature che poi fanno corrispondere questo aggancio esagonale a questa parte del tamburo, a questa, e quindi trasmettono il movimento rotatorio direttamente a tutto il tamburo. Un sistema molto interessante, molto ingegnoso e ben applicato a una pistola che è tutto sommato è un giocatto, ma devo dire che è fatta molto molto bene. Che altro possiamo dire? Per fare un'ottimizzazione tutto questo gruppo, andiamo a togliere di mezzo la scocca della pistola rimanente perché in questo momento non ci serve, per andare a fare un'ottimizzazione come dicevo, ciò che dobbiamo elaborare è fondamentalmente questo gruppo, lo dobbiamo smontare. Per ottimizzarlo dobbiamo valutare se questa guarnizione copre perfettamente l'imboccatura circolare del nostro tamburo, dobbiamo misurare letteralmente quella che è la distanza che si crea e la bontà della chiusura quando avviene lo sparo. Come possiamo farlo? In maniera molto empirica c'è da valutare se questa parte superiore mancante va messa e soprattutto quello che è lo spazio utile nel momento in cui si crea lo sparo. Dobbiamo guardare qui all'interno e vedere che sia ben corrispondente. Qui troviamo un piccolo puntale, vedete? Questo piccolo puntale in molti lo eliminano, io vi sconsiglio vivamente di eliminarlo perché questo qua impedisce alle polveri di entrare dentro al cilindro e andarsi a impastare con quello che è l'olio che la casa ha inserito tra cilindro e pistone, quindi insomma polveri, terra eccetera andrebbero a limitare ferocemente la bontà del meccanismo di sparo. Questo non eliminatelo, perlomeno non fatelo in prima battuta. La prima elaborazione per così dire da fare è l'analisi attenta di tutto quanto il meccanismo e di come funziona. Il castelletto sul quale sono montati le parti arancioni e bianche, vi faccio notare che è anche tenuto da una vite e un'altra vite che stanno qua dietro, che in questo momento vi sconsiglio di andare a rimuovere perché non occorre per andare a smontare quello che è il pistone. Vi faccio vedere il pistone, lo andiamo a smontare semplicemente flettendo, spingendo col dito la parte della rotazione, la stanghetta che offre la rotazione del pistone, già vedete piano piano il pistone viene fuori ed eccolo qua. Questo è il nostro pistone con la molla integrata, facciamo così e la molla si stacca, c'è una piccola guida che aggancia la molla, sentite il click, e possiamo anche togliere la molla. Molla che io vi sconsiglio vivamente di andare ad allungare così in maniera empirica perché andarla ad allungare così a mano non fa altro che sfibrare il metallo che assicura l'elasticità e magari i primi due colpi vi potranno sembrare più violenti, più forti, ma poi la molla non ritorna più ad avere le stesse caratteristiche e in brevissimo tempo perderà la sua funzionalità di potenza e di bontà dello sparo. Ora la vado a letteralmente svitare da quello che è il pistone e il corpo del pistone e l'ho separata dal pistone. Ci sono dei kit che prevedono l'acquisto di molle più dure, secondo me non è il caso di comprarli innanzitutto perché sono 10-15 euro di kit che non lasciano il tempo che trovano e su questo tipo di prodotto non creò nessun vantaggio reale. Ciò che invece dovete notare è come è fatto il pistone. La tenuta dell'aria è data da un O-ring, non c'è una vera e propria guarnizione come per quanto riguarda le pistole ad aria compressa, un O-ring trattiene poco e niente. Ora siccome la pressione esercitata in fase di compressione del cilindro non è un granché, diciamo che un O-ring è giusto sufficiente per poi spingere quelli che sono i dardi in schiuma. quindi è e non è una pistola ad aria compressa. Diciamo che il meccanismo è simile ma all'atto pratico quello che è l'aria compressa riceve una compressione veramente molto molto bassa, proprio perché per comprimere non occorrerebbe un O-ring sipposto ma una vera e propria guarnizione di tenuta che è fatta completamente in maniera completamente diversa. Dopodiché dobbiamo vedere come è fatto il pistone. Vedete il pistone ha un incavo all'interno che se visto in corrispondenza con quello che è il cilindro dovrebbe consentire al pistone di entrare leggermente in quella che è una X costruita all'interno del cilindro e andare un pochino più a fondo per comprimere un pochino più a fondo quello che è l'aria. In realtà qua sta il principale difetto di questo nerf. Nasce con una fortissima limitazione di fabbrica, è assolutamente migliorabile e il difetto ve lo faccio vedere immediatamente andando a rimettere il pistone all'interno, non so se si vede, anzi facciamo così, ci metto una luce di dietro e notate, aspettate un attimo, abbiate pazienza e pietà, notate che si vede l'O-ring, quella striscetta nera? ok, se vado a mettere completamente dentro il pistone si nota chiaramente che l'O-ring arriva qui ok? Arriva fino a qui. Dovrebbe arrivare in realtà fino alla fine del cilindro per esercitare la massima pressione sull'aria compressa. Non ce la fa perché qua dentro c'è un limitatore. Noi dovremmo fare in modo di o eliminare o di riempire questa porzione che non viene compressa e gli otterremo un reale beneficio nelle prestazioni del nostro nerf. Quindi, allora, siamo più o meno qui dove ho il dito, sarà circa un centimetro dopo la barra, ecco, il pistone arriva qua. Ok? Visto che il pistone, proprio per la lunghezza del suo stelo non potrà mai arrivare fino in fondo, dovremmo fare in modo che questa parte sia riempita con qualcosa e quindi l'aria che si va a comprimere da questo punto a questo, quando il pistone è nel punto morto superiore così si chiamano i motori a scoppio, avrà una compressione maggiore. Potremmo anche riempire questa parte di avvallamento, questa parte rientrata. Dovremmo avere cura di utilizzare un materiale molto poco pesante. Sarebbe l'ideale utilizzare la classica schiuma d'espansione, quella che si mette lungo le tuberie, nei sottotetti, eccetera, in modo da non aggiungere peso a questa parte in movimento del nerf. E per quanto riguarda il sistema di riempimento che una volta aperto il cilindro andremo a mettere, l'ideale sarebbe quello di utilizzare un silicone che una volta indurito non è un materiale comprimibile, quindi avremmo il massimo e potremo comunque usufruire del meccanismo originale senza andare a fare modifiche strutturali, senza andare a rompere o eliminare nulla, ma semplicemente andando a migliorare quello che c'è. Per tutto il resto della modifica andremo a fare un altro video nel quale vi spiegherò intanto come smontare ulteriormente questo componente e come andare a eliminare, cioè a eliminare, a smontare il resto del cilindro perché anche questo cilindro è composto da due unità, quindi il tubo e il tappino. Anzi ragazzi voglio fare di più, vi faccio vedere come si smonta il cilindro così mi trovo mezzo lavoro già fatto. Tirate indietro la molla, vedete la molla di ritorno, questa la tirate indietro e girate leggermente il cilindro in questo senso. Ok? A questo punto recupero la molla e la metto qui dove so io. Il cilindro si estrae, si sfila molto facilmente e cerco di farvelo vedere adesso. Aspettate, abbiate pazienza e pietà. Vedete quella croce che c'è da dentro? Ecco, quella croce praticamente fa da limite alla corsa del pistone, non la dobbiamo eliminare, la dobbiamo semplicemente riempire. Ok? Questo lo faremo nel prossimo video. Con questo è tutti amici, vi invito ad effettuare l'iscrizione, a lasciare un like se la spiegazione vi è parsa chiara e precisa e quanto prima vi aggiornerò su tutte quelle che sono le modifiche che andremo a fare su questa pistola e anche sulla parte dei dardi. Un saluto e a presto. Ciao!